7.31 e 34 secondi, buongiorno, 48 ore, meno di 48 ore all'apertura dei seggi, manca ormai veramente poco, sarà una lunga giornata anche per le dirette del Corriere della Sera perché più tardi avremo Silvio Berlusconi, mentre oggi invece iniziamo la mattinata con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, uno degli esponenti di prima fila del Movimento 5 Stelle, intervistarlo con me Massimo Franco e Alessandro Rachi, io però Di Maio le leggo un brano dell'intervista rilasciata questa mattina da Matteo Renzi al Corriere della Sera, rischi economici, inutile girarci intorno, se vince il sì l'Italia è più forte, se vince il no il rischio salto nel buio sotto gli occhi di tutti, come risponde? Che è più forte la loro permanenza al potere, questa è semplicemente una riforma per cui loro sono preoccupati, in quanto il no attenta la loro permanenza al potere di questo paese, il problema di Monte dei Paschi di Sina ci sarà anche il giorno dopo la vittoria del sì o del no, il problema della povertà in questo paese o della disoccupazione resterà anche il giorno dopo la vittoria del sì o del no, in realtà si sta legando al sì la permanenza al governo di un governo che è arrivato a Palazzo Chigi con un tweet e sa di essere già abbastanza debole e potrebbe essere ancora più debole dopo, non so che cosa farà Matteo Renzi ma di certo il giochino di dire c'è più stabilità se vince il sì, semplicemente c'è la continuità di una classe politica che ha già a mio parere fatto del male a questo paese, ha già massacrato questo paese e con la riforma avrà ancora più potere per continuare a farlo, perché non sono stati capaci in questi anni di mettere mano ai fondamentali dello Stato, il fatto di aver rinviato il problema delle banche oggi ci espone sui mercati a fibrillazioni non indifferenti, i mercati sono in fibrillazione non per il sì o per il no, sono in fibrillazione perché Renzi non ha mai risolto e mai affrontato seriamente Monte dei Paschi di Siena e tutto quello che vuole. Lei ha fatto un giro molto importante per l'Europa, quindi lei non pensa che le cancellerie straniere e i mercati guardino al no come uno spettro come viene raccontato da più parte? Ma ce lo dicono anche una serie di rapporti, per esempio Credit Suisse e Mediobanca sono più preoccupati del sì, altre banche sono più preoccupate del no, lo stesso vale per le cancellerie straniere, in realtà come nessun cittadino in questi anni mi ha mai chiesto guardate ho un problema, mio figlio è disoccupato, riformate la Costituzione, oppure ho un problema in famiglia, mio padre ha perso il lavoro, fate una nuova legge elettorale, allo stesso modo all'estero sono più preoccupati di misure economiche che dovrebbero essere attuate da anni, spending review, abbassamento del debito pubblico, rilancio dell'economia con investimenti produttivi e invece vedono un Presidente del Consiglio che utilizza le leggi di bilancio per largire un po' di bonus in vista del prossimo appuntamento elettorale. Senta, mancano diciamo poche ore all'apertura dei seggi italiani, all'estero invece ai nostri connazionali hanno già votato, si parla di un'affluenza abbastanza importante, sopra un milione e mezzo, qualcuno comincia ad azzardare qualche previsione, non sa come, sulla base delle sensazioni che darebbero il sì in vantaggio, ma con quest'aria di testa a testa, con la decisività del voto all'estero, cosa che in Italia abbiamo già sperimentato, perché le politiche del 2006 ebbero un andamento simile a quello che stiamo raccontando e chi le perse poi all'epoca non riconobbe per molti giorni il successo. Lei pensa che comunque il vostro fronte, lei riconoscerà la vittoria anche se sul fino di lana all'avversario se dovesse succedere oppure vorrete approfondire, verere, verificare? I risultati si riconoscono, poi ovviamente se ci dovessero essere delle irregolarità ci saranno delle inchieste, ci saranno delle denunce, speriamo che la magistratura faccia ovviamente tutta la chiarezza del caso. Io personalmente penso che molti degli italiani all'estero che siano andati a votare siano anche quegli italiani all'estero che sono andati fuori da questo paese, sono andati via da questo paese per colpa di leggi simili a questa riforma costituzionale. Sono andati via tanti anche a causa del Jobs Act che aveva un bellissimo titolo ma un pessimo contenuto. Anche questa riforma ha un bel titolo, purtroppo troveremo una bella domanda sulla scheda elettorale, nella cabina elettorale, ma che non ci dice le cose più importanti, la perdita del diritto di voto al Senato della Repubblica e l'immunità parlamentare ad una nuova classe politica, quella dei consiglieri regionali e sindaci che siederanno lì dentro il nostro malgrado. E quello che voglio dire a tutti i cittadini italiani è questo voto, quello di domenica, si basa prima di tutto sul livello di fiducia che abbiamo in chi l'ha scritta questa riforma. Io non mi fido di chi l'ha scritta e devo votare necessariamente no perché il merito viene dopo, visto che lo stesso quesito, la stessa domanda è ingannevole. Questa riforma è un grande inganno a mio parere perché è stata fatta da gente che ci ha già ingannato con il salvabanche, la buona scuola, il Jobs Act. Massimo Franco. Ma voi vedo che esaminate moltissimo quello che può accadere se vince il no, cioè se vincete voi. Volevo capire che strategia avete se vincesse il sì, perché questo mi sembra un po' meno chiaro. Le dico con molta chiarezza, dottor Franco, in questo momento stiamo pensando al no. Se dovesse vincere il sì, poi ovviamente faremo le nostre opportune valutazioni. Ma è importante in questo momento concentrarsi sull'obiettivo. Speriamo che domenica dalle urne esca fuori un risultato quello del no. Però se esce il no, chiedo scusa, voi dite se esce il no, se voi vincete elezioni subito. sapete benissimo che sarà quasi impossibile perché bisognerà rifare una legge elettorale. Allora la domanda successiva è se anche voi pensate al no, dovete anche pensare, se non vi danno le elezioni, cosa farete? Voi siete pronti a dialogare con un altro governo? Questa è un'altra faccenda. Io ho capito che non sia scontata una dimissione di Matteo Renzi in caso di vittoria del no. Non abbiamo capito bene che cosa voglia fare perché ha cambiato idea più volte in questi mesi. Quello che noi diciamo vale al di là del referendum. Cioè questo Paese ha bisogno, a nostro parere, di andare a votare perché abbiamo avuto già due governi che non avevano neanche le coalizioni passate per le elezioni, neanche un programma elettorale passato per le elezioni. Se ci dovesse essere e vedremo una crisi di governo, allora a quel punto immagino che il Presidente Mattarella con la sua prerogativa costituzionale inizierà una serie di consultazioni, noi diremo al Presidente Mattarella Presidente, noi vogliamo andare a votare il prima possibile, cioè nessun governo tecnico d'inciucio e mi pare che anche su questo sia d'accordo il Presidente del Consiglio dei Ministri. Se bisogna fare una legge elettorale, noi ne abbiamo una, gli altri ne hanno fatte due, una incostituzionale e una sotto giudizio della Corte Costituzionale, forse è il momento di dare un'opportunità alla nostra legge elettorale. Poi quello che succederà si vedrà in Parlamento perché le leggi elettorali le fa il Parlamento, non il governo. Senta, ma lei rispetto questa ondata di voglia di ritorno al proporzionale che come sappiamo provoca dei difetti diciamo sulla continuità dei governi, ma dal punto di vista della democrazia fotografa praticamente quello che è l'orientamento dell'elettorale italiano, poi ci sono più o meno gli sbarramenti, ma lei come in realtà ha fatto per esempio Silvio Berlusconi sarebbe disposto a discutere di una legge proporzionale insieme agli altri partiti? Il nostro modello che si chiama Democratelum della legge a prima firma Toninelli è un modello proporzionale con un correttivo maggioritario, cioè ambisce alla governabilità, perché è giusto che ci sia, ma non deve essere sacrificata la rappresentatività. E questo è il nostro obiettivo. La nostra legge è pronta, le dico sinceramente. Io non ho intenzione di passare il tempo a vedere gli altri partiti che discutono per mesi della legge elettorale perché devono arrivare a metà di 2017 quando una parte dei parlamentari della maggioranza e dell'opposizione matureranno la pensione, perché quello è un obiettivo che tanti parlamentari hanno in testa. arrivare a metà del 2017 per maturare la pensione. Per questo diciamo, noi abbiamo una nostra proposta, la mettiamo sul tavolo e la nostra proposta però non possiamo pensare che venga modificata da quelli che in questi anni hanno fatto leggi incostituzionali o per salvarsi le poltrone o per toglierci il diritto di voto. Quindi credo che sia una proposta abbastanza serrata, abbastanza chiusa e che invito gli altri partiti a votare. Massimo Franco. Solo questo, voi volete le elezioni quindi si presume vogliate andare al governo. Accusate molto questo governo di arroganza, di incompetenza, tutto quello che volete. Ecco, non temete quando poi fate proposte tipo un referendum per abolire l'euro, in qualche modo si esalti la mancanza di un'opposizione credibile a questo governo e quindi di fatto si dia anche un motivo al governo per dire dopo di me non c'è nulla. Io penso che questa visione del dopo di me non c'è nulla si riferisce ad un modello anche di Europa e di stati europei che stanno cambiando velocemente. Qui l'anno prossimo si va a votare nei tre paesi, vedremo nel terzo cioè noi e il nostro, ma sicuramente nei due paesi dei tre del direttorio europeo. Germania e Francia. Germania e Francia saranno interessati da elezioni politiche. Ora, la Merkel ha già detto saranno le elezioni più difficili della nostra storia. Olanda ieri ha detto che si tira indietro, Fillon era l'outsider delle primarie repubblicane e le ha stravinte. Che cosa voglio dire? Che l'Europa cambierà nostro malgrado ed è bene che siamo pronti a dei cambiamenti. Noi abbiamo sempre detto una cosa, il referendum sull'euro quando ci siamo presentati nel 2014 e alle europee era l'estrema razio. Rimettiamo a posto i vincoli di bilancio, rimettiamo a posto una serie di regole dell'austerity, vediamo di rimettere in piedi un'Europa politica di unione dei popoli. Se no, altrimenti se non c'è questa volontà di cambiare dobbiamo essere noi come paese a cambiare prima che gli altri se ne vada. Lei sa che per la Costituzione non si possono fare referenti? Infatti la nostra proposta è la nostra proposta che abbiamo presentato al Senato oltre un anno fa ormai è una proposta come il referendum consultivo sull'Unione Europea dell'89 se non sbaglio in cui si faceva semplicemente una proposta di legge di istituzione di un referendum che è di rango costituzionale quindi si deve approvare in Parlamento chiaramente il referendum consultivo e questo ci darebbe anche il tempo di contrattare ai tavoli europei la possibilità di cambiare i parametri che non ci piacciono e ci darebbe anche forse un po' di peso contrattuale nei confronti anche dell'Eurozona per rimettere in discussione alcune cose guardi quando siamo entrati quando l'Italia è entrata nell'Unione Europea ci aveva detto cioè aveva detto Romano Prodi quello che oggi sostiene il sì quando è entrato nell'Euro ha detto lavoreremo la metà e guadagneremo il doppio non sono andate così le cose ora o cambiamo o fingiamo di non vedere la realtà senta ma la lettura ormai celebre anche se ormai è datata di qualche settimana del Financial Times secondo cui la vittoria del no sarebbe il viatico verso la diciamo una situazione in cui l'Italia esce dall'Euro secondo lei quindi è azzeccata o è campanitaria? no perché quello è un meccanismo che si vuole far sembrare automatico io non credo che sia così anche perché noi non siamo quelli che dicono dobbiamo uscire dall'Euro noi vogliamo far scegliere i cittadini e ovviamente la vittoria del no non si collega al nostro referendum sull'Euro quello è un tema che se i cittadini dovessero dar fiducia ad un programma con quel tema all'interno allora potrebbero scegliere quindi è svincolato dal referendum io dividerei le due cose anche perché in questo momento si stanno legando troppe cose a questo no e a questo sì anche soprattutto al no per mettere timore ai cittadini se lei propone un referendum evidentemente non volete che l'Italia rimanga nell'Euro perché altrimenti non lo proporreste ma poi sia chiaro l'uscita dall'Euro può significare quello che dice un disastro può significare no no guardi io non ne sarei più così convinto ma in ogni caso devono scegliere gli italiani anche su scenari alternativi perché i paesi del Mediterraneo che vanno ad una velocità differente dai paesi del Nord Europa hanno magari il diritto di poter contrattare tassi differenti di poter contrattare una moneta unica del Mediterraneo questi sono temi che nei prossimi anni diventeranno centrali e se non li affrontiamo poi arrivano colpi come quelli di Brexit che sono l'urlo il grido di dolore di popoli che sono sempre stati ignorati su questi temi Alessandra Laghi vediamo se ci sono domande da fuori Alessandra puntando a Palazzo Chigi avete pronto un candidato premier? quando ci saranno nuove elezioni politiche i cittadini italiani avranno un vantaggio con noi non solo conosceranno il nostro candidato presidente del consiglio dei ministri ma anche la possibilità di avere i nostri candidati ministri quindi una squadra di governo pronta prima delle elezioni politiche che sarà molto importante anche per mettere in chiaro quale sia la nostra idea di governo con chi vogliamo governare li sceglieremo insieme ai nostri iscritti quale sarà il metodo ancora non è messo in piedi perché non esiste ancora l'opportunità di andare a nuove elezioni politiche alcuni sostengono che Di Maio l'abbia incontrato anche stamattina allo specchio il prossimo candidato del Movimento 5L io però le volevo stavo pensando cosa stesse per dire no no io volevo chiedere però al di là delle frasi che il presidente del tribunale di Bologna ha pubblicato su Facebook ma lei pensa anche che che la portata del referendum sia della posta in gioco sia tale che chi vota legittimamente per il sì quindi contro la sua opzione si metta nel solco di quelli che inconsapevolmente o in buona fede o come vogliamo scelsero la Repubblica di Salò nel 43 il paragone regge io penso semplicemente una cosa che gli effetti di questa senza fare paragoni storici gli effetti di questa riforma noi li conosceremo solo quando sarà attuata e saranno effetti peggiori di quelli che stiamo leggendo adesso nella riforma stessa non tanto dal punto di vista di scenari apocalittici ma dal punto di vista del caos istituzionale si potrà venire a creare quando i due presidenti in base al nuovo articolo 70 i due presidenti di Camera e Senato che probabilmente avranno maggioranze differenti prima o poi avranno maggioranze differenti quindi al Senato magari ci sarà una maggioranza del PD alla Camera una maggioranza del Movimento 5 Stelle o di un'altra forza politica quando questi due presidenti si dovranno mettere d'accordo su quali leggi discutere lì ci sarà un impasse istituzionale e non è neanche certo che i due presidenti possano andare alla Corte Costituzionale a dire no il Senato deve discutere la legge anticorruzione e il Presidente della Camera dice no il Senato non deve discutere la legge anticorruzione caos sicuramente e maggiore corruzione su quella considerazione sono d'accordo perché aumenterà il senso di impunità della nostra classe politica perché il nuovo giocattolo che avranno alcuni consiglieri regionali sulla parte dell'automatismo tra questa riforma e la maggiore corruzione questo l'ho sempre detto perché aumenterà il senso di impunità la corruzione è prima di tutto un fattore culturale in questo paese se tu ti senti più impunito delinquiti più e nella politica il nuovo giocattolo nelle mani dei sindaci e dei consiglieri regionali che andranno in Senato cioè l'immunità parlamentare è pericolosissima Massimo Franco lei è sempre convinto se andrà l'elezione del 2017 ci sono buone probabilità ma vediamo la variabile storica purtroppo è la pensione ad alcuni parlamentari di questo ne sono convinto ma forse anche il fatto che si tende a scaricare sul paese l'impossibilità della classe politica di fare delle riforme serie e di risolvere i problemi perché dopo un referendum che di fatto è una campagna elettorale non per colpa degli elettori ma per colpa vostra e del fronte del sì voi scaricate sul paese anche le elezioni anticipate mi sembra una cosa che può ma questo guardi lo deciderà il Presidente della Repubblica delegittimare le istituzioni questo sia chiaro che lo deve decidere ma voi avete fiducia in Mattarella Berlusconi non fa altro che dire sempre io ho fiducia in Mattarella cioè lo rivendi che lo dice in continuazione è il Presidente della Repubblica ed è la carica di garanzia che dovrà gestire eventualmente un momento in cui ci saranno delle elezioni o delle dimissioni del governo detto questo io penso che questi governi fino ad ora hanno fallito perché il loro scopo erano queste riforme lette le riforme abbiamo capito quale fosse lo scopo e gli diciamo no grazie per questo dobbiamo votare no io credo che quando i cittadini scelgono scelgono ed è sempre un momento di democrazia se ci siano o meno prospettive di elezioni anticipate questo lo vedremo però il giochetto che si sta facendo in questi giorni è legare il sì e il no a questa prospettiva per esempio che vinca il sì o che vinca il no comunque sta legge elettorale si dovrà modificare a quanto abbiamo capito che vinca il sì o che vinca il no non è scontato che ci siano o meno nuove elezioni in ognuno dei due casi perché abbiamo anche quindi nessun automatismo voi mi pare proprio abbiate pubblicato uno scenario la settimana scorsa in cui si parlava del presidente del consiglio che si dimette anche se dovesse vincere il sì quindi siamo in questa e Renzi nell'intervista di oggi non ha smentito questa ipotesi siamo in questa prospettiva qui quindi a me sembra che gli effetti del sì e del no paradossalmente si somiglino e quindi è meglio concentrarci sul sì e sul no io voto no manca pochissimo alla fine della campagna elettorale ormai possiamo dirlo questo scontro dibattito Renzi di Maio non ci sarà Renzi non l'ha voluto fare con lei alcuni dicono per i picca perché Grillo non ha voluto farlo con Renzi perché secondo lei non c'è stato alla fine lei era disponibile perché non c'è stato questo confronto io credo di aver capito che il presidente del consiglio stia scappando un po' da quando non dalle telecamere no no dalle telecamere ormai la televisione anche quando è spenta fa vedere Matteo Renzi quindi da questo no da noi sì e sicuramente però lui ha detto che con Grillo l'avrebbe fatto ha avuto un problema con me perché anche in due interviste all'arena di Giletti che non erano un confronto ma erano una dopo l'altra lui ha fatto saltare quella puntata perché c'ero io prima di lui quindi ha un problema a confrontarsi con noi sui temi di questa riforma è una truffa questa riforma lo voglio dire chiaramente e siccome lui ha detto tante bugie in questi anni sa bene che ha poca credibilità di fronte agli elettori e la vittoria del no si baserà anche su quanta credibilità gli elettori al di là del merito della riforma daranno a Matteo Renzi perché uno che ti dice che vuole ridurre i costi della politica ridurre le poltrone lo possono dire tutti e lo hanno detto tutti ma la credibilità è quello che fa la differenza e per me è la prima cosa mancanza di fiducia nei confronti di questo governo ci obbliga a votare no ma è vero che farete festeggerete come ha detto mi safico ieri sotto Palazzo Chigi in caso di Vittoria questo l'ho letta ieri ma credo che sia ovviamente un modo metaforico per semplicemente raccontare l'euforia di un movimento che comunque ha salvato la Costituzione e la Repubblica da uno stravolgimento di 47 articoli che sarà devastante non so c'è un'ultima domanda Massimo Franco solo quanti braccialetti io dico no avete stampato avete prodotto no questo mi è stato regalato non rientrano nei nostri gadget ufficiali solo questo c'è da dire però che quelli del Sine hanno tre ne hanno uno bianco rosso e verde quindi siamo più economici ne abbiamo uno di senso opposto grazie a Sandracchi grazie Massimo Franco e grazie anche a Luigi Di Maio noi ci vediamo più tardi quando l'ospite sarà un altro esponente del fronte del no ed è Silvio Berlusconi buona giornata grazie grazie a tutti